puntata qui da silvia ho scelto di indossare di nuovo l'abitino del party amore che effetto che mi fa ragazzi che riporta alcuni momenti bellissimo e poi anche perché ho pensato ma quando lo utilizzerò più esatto forse mai forse chissà comunque grazie amore mio andiamo puntata qui da silvia ho scelto di indossare di nuovo l'abitino del party amore che effetto che mi fa ragazzi che riporta alcuni momenti bellissimo e poi anche perché ho pensato ma quando lo utilizzerò più esatto forse mai forse chissà comunque ma no adoro grazie amore mio andiamo puntata qui da silvia ho scelto di indossare di nuovo l'abitino del party amore che effetto che mi fa ragazzi che riporta alcuni momenti bellissimo e poi anche perché ho pensato ma quando lo utilizzerò più esatto forse mai forse chissà comunque grazie amore mio andiamo